Grazie Presidente, mi scuso in anticipo Presidente e anche con i consiglieri perché forse porterò via un paio di minuti in più, ma ciò si rende necessario per la natura della delibera. Questa riforma è attesa da molti cittadini e ricordiamo che non è mai stata affrontata in precedenza. Il faro di questo lavoro è stato sempre quello di garantire forza allo strumento partecipativo delle consulte per i diritti delle persone con disabilità. Questo chiaramente senza voler svilire il prezioso lavoro svolto fino ad oggi dalle attuali consulte, sia cittadina che municipali, con cui come amministrazione fin dal primo giorno della consigliatura ci siamo confrontati su vari temi, grazie anche al lavoro del delegato all'accessibilità di Roma Capitale Andrea Venuto. La delibera 126 vuole suggellare questo tipo di esperienza ed incardinarla nelle procedure amministrative. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito in modo costruttivo alla realizzazione della riforma, la quale esprime la voce di tante persone ed è il frutto di un dibattito ampio e di una mediazione tra visioni diverse. La delibera espressione di una ricognizione sul campo, ma soprattutto di un ascolto lungo e attento. In questa sede qualcuno ha affermato che le consulte sono organismi datati, superati. Bene, l'obiettivo principale della riforma è quello di renderlo uno strumento nuovo ed attuale, coerente con le esigenze del contesto sociale in cui ha inserito. Per realizzare questo obiettivo abbiamo inserito alcuni elementi di grande importanza. Con la delibera 183 a mia prima firma abbiamo previsto il coinvolgimento delle consulte cittadine nel leader deliberativo del Consiglio di Roma Capitale, cosa certamente non di poco conto. Abbiamo previsto l'istituzione di un tavolo sull'accessibilità universale di Roma Capitale, un luogo ampio e permanente di confronto con l'amministrazione sulle esigenze e i problemi delle persone con disabilità e delle loro famiglie, allo scopo di raggiungere la loro piena inclusione, non necessariamente legato a processi decisionali contingenti. L'istituzione di un ufficio di supporto amministrativo dedicato, ringrazio la direzione dell'Assemblea Capitolina che si è messa a disposizione di questo progetto, che di fatto rafforza l'efficienza delle consulte. Inoltre evidenziamo l'utilizzo di strumenti digitali, la costituzione di un organo esecutivo allargato per rafforzare il ruolo attuativo e la chiara definizione delle interazioni tra centro e territori. Ho dato ampie possibilità ai consiglieri di opposizione di contribuire alla costruzione del regolamento, ma alcuni di loro hanno preferito dialogare tramite comunicati pretestuosi, invece di cercare un'interlocuzione costruttiva. Mi riferisco in particolare ad alcuni consiglieri di Fratelli d'Italia, i quali inoltre, dopo aver rivendicato pubblicamente il diritto espresso dalle consulte di vedere maggiormente legittimato il loro ruolo consultivo, hanno ritenuto di astenersi sulla proposta 183, che andava proprio in tal senso. Si è tentato evidentemente di sminuire la forza politica, ma è chiaro che ciò che realmente si rischia di sminuire è l'ideale, il fine ultimo del lavoro e il sacrificio di chi, con mille difficoltà, ha partecipato a questo lavoro per ben due anni. Voler trovare sempre e solo ciò che divide e non ciò che unisce, l'ostruzionismo a priori, la superficialità nell'analizzare le proposte, sono esercizi politici a cui credo non mi abituerò mai. La realtà a cui ci rivolgiamo, già separate dalle tante diversità e ostacolate dalle troppe barriere, sono troppo spesso in contrasto tra di loro. Assicurare loro il giusto peso potrà, ci auguriamo, stemperare queste tensioni e stimolare maggiore partecipazione. Grazie allo sforzo collaborativo messo in atto nella realizzazione della riforma, abbiamo però la possibilità di lanciare un segnale di unione, garantendo maggiore forza ad un obiettivo che non deve avere colore politico, dare voci alle persone con disabilità della nostra città e alle loro famiglie, nonché alle loro rappresentanze. Vi chiedo di non sprecare questa occasione. La partecipazione attiva dei singoli cittadini con disabilità o loro rappresentanti in consulta cittadina, prevista in numero ridotto e con peso limitato, ha suscitato la critica di tutti i consiglieri di opposizione, cosa che risulta quantomeno contraddittoria in quanto gli stessi hanno affermato più volte di non voler discriminare i cittadini nel diritto di voto sulla base della loro libera volontà di associarsi. Ho fatto di tutto per comprendere il loro punto di vista, ma evidentemente alcune logiche politiche superano qualsiasi buona volontà. Oggi sono tante le persone non associate capaci di fornire contributi notevoli, al pari delle associazioni. Noi lasciamo uno spazio e un peso equilibrato ai due mondi, proprio con lo scopo di evitare fratture e separazione. Il grado di rappresentatività non può essere l'unico criterio per l'accesso, anche perché di difficile attuazione. Abbiamo preferito premiare e valorizzare la disponibilità e la competenza. La consulta cittadina inoltre deve essere indipendente dalla libera autonomia dei municipi di costituire le consulte. Concludo l'intervento raccontando l'esperienza umana positiva che ha fatto da sfondo a lungo lavoro di redazione del regolamento. Ho capito l'importanza dell'ascolto delle istanze delle persone con disabilità, delle loro famiglie o di chi le rappresenta, ma soprattutto l'importanza di metterle in condizione di poterle esprimere. Ho ammirato la tenacia di queste persone nell'essere presenti alle occasioni di confronto, superando le difficoltà di spostamento o di lasciare a casa familiari con bisogno di assistenza. Questo sforzo merita un ascolto attento e senza pregiudizio dei loro contributi. Inoltre ho apprezzato la competenza che appartiene in maniera così estesa alle persone con disabilità e ai loro familiari e ho cercato di valorizzarla nei processi decisionali, politici e amministrativi di Roma Capitale. Il Movimento 5 Stelle voterà chiaramente in modo favorevole la proposta, che ha accolto la maggior parte delle richieste sia dei municipi, sia delle consulte, ma anche parte di quelle delle opposizioni. È un lavoro riconosciuto da più parti e che ha valorizzato al massimo la partecipazione. È frutto del dialogo tra amministrazione e cittadini e loro rappresentanze nel rispetto delle rispettive competenze e ruoli. Un lavoro per le persone con disabilità e le loro forme aggregative. L'inizio di un percorso per la loro inclusione reale nei processi amministrativi della nostra città, garantendo ascolto e soprattutto a chi non riesce ad avere voce. L'ultima frase, permettetemela, spesso è difficile medesimarsi in una realtà ancora troppo lontana culturalmente dalla nostra società. Le consulte per i diritti delle persone con disabilità avranno il compito fondamentale di aiutarci a ridurre queste distanze. Grazie a tutti.